Essere a Utopic Fest è un'esperienza bellissima, vedere tanti giovani provenienti da diverse realtà che si confrontano, che crescono insieme, è motivo di speranza perché c'è bisogno di incontro, c'è bisogno di scambiarsi opinioni, esperienze e di guardarsi negli occhi. Nel mio intervento ho cercato di raccontare come il giornalismo possa contribuire a raccontare la complessità senza mai negarla, cercando il più possibile di avvicinarsi a quella che era verità dei fatti, senza faziosità ma cercando di dare la giusta dignità alle persone di cui si racconta e creando anche un'empatia perché non si sfugga dalle situazioni che sembrano troppo complicate per essere capite ma ci si avvicini con rispetto ed empatia alle persone che in quel momento sono in sofferenza a causa di conflitti.